Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi giro questo video che mi è stato richiesto da Fior di Lotto Tanta, che saluto e abbraccio e ringrazio insomma per avermi fatto questa richiesta e sono molto contenta di accontentarvi anche nel presentarvi dei video che magari vi possono interessare, in cui vi farò vedere quali sono le mie tinte labbra. Allora ne ho diverse e già che ci sono, però vi faccio vedere un po' tutti i prodottini labbra che ho. Allora oggi ho questa meravigliosa tinta labbra addosso color mattone che si intona benissimo con la tuta che indosso, che è questa qua di Mesauda Milano, della linea Extreme Matte, numero Gingerbread 108, vediamo se mette a fuoco, anche no perché col cellulare è un po' più difficilotto, fare queste cose qua, comunque scritto Gingerbread Pan di Zenzero numero 108. Questa è una collezione vecchia, io non so se l'ha troviata ancora perché penso che risalga almeno a cinque anni fa, vedete che praticamente è ridotta all'osso, però mi piace molto. Io i prodotti li porto sempre a termine, anche se il PAO è di 24-18 mesi in questo caso, quindi non andrebbero utilizzati dopo i 18 mesi dall'apertura, io a meno che non siano in condizioni effettivamente pessime, i prodotti tendo a terminarli, quindi questo è uno che io adoro molto. Altra tinta labbra della Mesauda è una colorazione estremamente delicata, fresca e ideale per qualsiasi occasione, quindi se volete il vostro tocco raffinato durante il giorno al lavoro, come durante una cerimonia, perché è veramente un colore molto delicato come anche una serata, sul sottotono di pelle mio, perché poi bisogna fare molta attenzione, sta molto bene il colore eccentric, scritto eccentric numero 126, ok? Ed è una specie di color rosa antico, freddo, non chiarissimo, che quindi sposa bene la mia carnagione, ecco per farvi capire ve li sguoccio. Altro colore che mi piace molto, ve li pesco a caso, non in ordine di marca, in realtà poi mi piacciono tutti molto, sempre della Mesauda, è il color Bad Girl, detta tutta, numero 112, con iscritto Bad Girl, cattiva ragazza, e questo è veramente il colore che effettivamente vedrei sulle labbra di una ragazza molto cattiva, è un colore molto pieno, scurissimo, ed è un vinaccia violaceo, che a me piace davvero tanto come mi sta. Quando si asciuga appunto non tende al mattone, ma piuttosto ha un viola molto scuro, che in questa stagione autunnale è veramente indicato, però consiglio l'utilizzo di questo quando si fa un trucco occhi sobrio, non mi piace vedere questi occhi magari scurissimi, pieni di mascara e poi un accostamento forte vicino, quindi se usate con questo colore io direi che poi con gli occhi andate molto cauti. Poi arrivato veramente alla fine, io l'ho amato, questo è stato proprio il colore di una mia interestate, non ho il coraggio di mettere ciò che rimane di lui, perché lo voglio tenere come una reliquia, è il color Muffin, che è questo 110, come dire, questo fucsia ciclamino, che però quando si asciuga sulle labbra veramente ve le fa molto appariscenti e molto pop, molto anni 90, quindi tanto giocoso, tanto scherzoso, io l'ho portato tantissimo, potete vedere che praticamente l'ho raspato sui lati e quel po' che rimane lo voglio ottenere veramente, quando proprio mi sento di mettere questo colore, generalmente in primavera estate, quindi lui si è asciugato un pochino, potete vedere che tende appunto a questo fucsia che poi rende di più effettivamente sulle labbra e via. Poi sempre della mesauda, un colore raffinatissimo, un colore davvero, come dire, attuale e allo stesso tempo comunque senza, un colore senza tempo, un colore che può stare davvero bene anche questo su tutti e per tutti, è questo qui, che è il colore soul, anima, 125, sempre della mesauda, che è un rosato tendente al salmone, è una parola proprio esagerata perché il salmone è più aranciato, comunque è sempre un rosa antico, però un po' più carne rispetto al primo che vi ho fatto vedere. Vedete? Questo ha un sottotono ancora più freddo e questo è proprio molto sofisticato, bello anche se è contornato un pochino le labbra. Non indicato sicuramente quando siete abbronzati perché appunto ha un sottotono di colore freddo e voi direte tu quando mai non sei abbronzata che sei mulata, cioè mai perché sono sempre colorata, però ci sono dei giorni in cui in inverno ho la pelle veramente un po' più chiara del solito, ho degli accostamenti di colori di ombretti e di vestiti che comunque giocano e quindi mi sta molto bene, non sembro quelle che vedete magari tanto scure, che hanno questo contrasto di labbra chiare che a me non piace, anzi poi vedete come si asciuga comunque tende a scurirsi e sta molto bene sul sottotono di pelle mio. Poi passiamo a un'altra marca, vediamo se c'è ancora qualcosa, no, c'è di Mesauda e anche questo è la fine del mondo questo colore, solo che sono tutti praticamente arrivati alla fine. Il rosso Cheerleader, il 113 e questo è il rosso per eccellenza secondo me perché è velluto sulle labbra, questo quando si asciuga è proprio una scarpetta in velluto, questo rosso mi ha dato delle soddisfazioni, ho ricevuto dei complimenti perché è proprio il rosso quello giusto, cioè non è troppo rosso, non è troppo aranciato, non è troppo... cioè è qualcosa di eccezionale questo questo rosso qua e questo è proprio il colore di quando volete usare, di quando avete un bel giubbotto in pelle, i tacchi a spillo, comunque una minigonna, un vestito abbastanza importante ecco qua se volete stupire sempre senza caricare troppo gli occhi quindi una bella linea di eyeliner e un mascara e con questo veramente fate strage. Io poi il rosso matte sulle labbra carnose adoro. Lucido no, diventano volgari secondo me, ma matte è qualcosa di fantastico. Poi passiamo a un'altra marca che ho scoperto più recentemente, ah da dire che, ah ecco qua, solo che non non ne ho più perché li ho buttati via perché li ho veramente terminati, avevo diversi diverse tinte labbra anche della nabla che mi sono piaciute anche queste parecchio, mi sono piaciute più quelle di Nesauda sinceramente, queste avevano una texture un pochino più cremosa e anche qua avevo comprato rosso che praticamente è terminato anche questo che sembrano simili ma non lo è, ha un qualcosa di più ciliegia rispetto a questo che è più rosso rosso, questo ha una punta un po' più profonda che non saprei come definirvi, messi vicini in realtà non vi accorgete, comunque un bellissimo rosso anche questo. Questi un po' più cremosi rispetto agli altri, gli altri sono proprio con un finish più matte. Poi, un grande amore si sono rivelati per me e ne mancano all'appello perché poi sicuramente io li metto nelle varie borse, quando vado in giro a destra manca, me li porto dietro, poi non so in che borsa la sbatto, se in quella da palestra, se in quella di lavoro, se nello zaino in cui sono uscita ieri a Castagne per esempio e quindi dopo un po' di giorni viene fuori nuovamente la tinta labbra, comunque che mi hanno dato grandi soddisfazioni, sono le tinte labbra della Ever. Allora, in particolar modo il colore più gettonato, tra virgolette, quello un pochino che si sposa meglio con tutto, ecco ultimamente sto usando tantissimo, è questo qui che è il numero 34, senza nome, semplicemente il numero 34, che è anche questo una specie di ciclamino, fucsia, molto appariscente, meno del muffin di mesauda, però sempre comunque bello colorato, bello acceso, come potete vedere, eccolo qua. E sta bene veramente con tutto, con qualsiasi tipo di abbigliamento, in qualsiasi occasione, vi dà comunque il colore senza eccedere e neanche senza comunque rimanere troppo nella semplicità. Ecco, quello che vi ho fatto vedere nel video tag autunnale, che mi piace anche molto del più scuro che ho della Ever, è il colore appunto 29 e qua abbiamo un vinaccia che tende più a virare sul marrone rispetto a quello di prima della mesauda, se qui abbiamo più un violaceo, qua abbiamo più un colore che tende ad andare sul marroncino, però rimane pur sempre un color vinaccia, durata eccezionale di tutti quanti. Ecco, quelli che alla fine della fiera durano di più, se proprio devo dargli un ordine, di queste tinte labbra sono Ever, mesauda e poi Nabla. Questi proprio prova veramente di mascherina, poi logico se mangiate delle cose oleose, le tinte labbra tendono un pochino ad andare via, però sono talmente pratiche, quando ve le portate dietro, che non fanno comunque lo strato, non è che voi passate e ripassate, vi vengono via pezzettini, che quindi basta aggiustare semplicemente dove non ce n'è e tornate come prima. E qui è lo swatch di questo. Un altro rosso, un po' più, se volete, abbinabile anche con questa tuta mattone che ho, è questo qui, nella colorazione, nella colorazione non so perché non c'è scritto nulla, sempre della Ever, se non sbaglio anche questo era un'edizione limitata forse, comunque io ve lo metto sopra gli altri rossi, questo sì, effettivamente è un rosso che vira più sull'aranciato, come potete vedere. Se voi lo mettete non si nota questa cosa, però sì, rispetto a un rosso rosso ha questa sfumatura un po' più corallo, un po' più aragosta, quindi lo vedo più indicato in periodi come l'estate, l'autunno, dove sono questi colori caldi, in contesti un po' meno seri, tra virgolette, che magari quelli in cui vogliamo stupire con un rosso come questi due qua. Poi ce n'è un altro, che aspettate un attimo, vado a vedere se trovo, ebbene sì, ed è il colore 23 sempre della Ever, che trovate sul sito WeMakeup, che è un altro rosato, che è diciamo un mix tra un fucsia e un rosa antico, elegantissimo anche questo, veramente portabilissimo per tutti i giorni, molto gioioso, molto soft, non siete fuori dalle righe con questa colorazione, assolutamente, quindi anche questo molto molto carino, che lo porto tanto tanto volentieri. e sì, vedete come reagisce sulla mia pelle. Poi, Dulcis in fundo, vi faccio vedere in maniera un po' veloce, questi senza sbocciarveli, perché non sono delle cose che utilizzo con questa grande frequenza, erano delle cose che avevo preso così in varie occasioni. Ogni tanto mi trovo a mettere, vediamo cosa posso farvi vedere, raramente proprio, questi qua della Deborah, che sono le Fluid Velvet Matte Lipstick, che sono sempre queste tinte labbra con questo effetto metallizzato. Questa qua l'avevo trovata in offerta da qualche parte, no transfer, colorazione 52, anche se effettivamente c'è di meglio, sono sincera. Era molto interessante la colorazione, perché è metallica, adesso non si vede bene con questo cambio di luce, però è iridescente, potete vedere. Mi piaceva molto il discorso, appunto, iridescenza, però l'ho utilizzato poi alla fine non tantissimo, però indicatissimo in questo periodo, che può essere l'autunno. Avevo anche la colorazione rossa, che qua non trovo chissà dove l'ho messa. Comunque questo è. Presi per pochi soldi, ed effettivamente non è che il gioco valesse tanto la candela, ma vi parlo di acquisti che ho fatto tempo fa, ve li faccio solo vedere senza consigliarveli, però erano anche queste tinte labbra della Stay, 8 matte della Essence, le avevo prese in queste tre colorazioni qua, che sono sempre sul rosato, una, sul fucsia l'altra e sul neutro l'altra. Come colori non sono male, però trovo che siano più indicate magari per delle ragazzine, che li utilizzano ogni tanto alle prime armi, non per una persona che ama truccare le labbra e tenere su la tinta labbra tutto il giorno, perché poi me ne venivano via pezzettini, quindi io giusto perché ce le ho ve le faccio vedere, ma da qui a farvele, a swatcharvele per consigliarvele, sinceramente non mi sento di farlo, perché non ve le consiglio. È giusto per farvi vedere che ho anche queste. Ah, un'altra che mi piace abbastanza, non ha una durata eccelsa, però mi piace la consistenza, la colorazione 020 Blushing Peony, il Max Factor Color Elixir Soft Matte, questo qui che è l'ennesimo color, appunto, blush rosato, che poi alla fine sono tutti diversi l'un dall'altro in realtà, io li utilizzo tantissimo, quindi comunque la maggior parte sono, se non finiti, a metà confezione, ed è questo rosato ancora un po' più giovanile, ancora più gioioso rispetto agli altri che ho, sempre sul lato freddo, vira la colorazione, e sta bene su qualsiasi tipo di pelle, secondo me, quindi molto carino in una giornata in cui volete essere anche semplicemente acqua e sapone con un tocco di colore. Poi ci sono i miei immancabili, immancabili, e qui vi faccio vedere gli ultimi due che mi sono rimasti, perché avevo anche altre due colorazioni, una, se non erro, era la Artist, e l'altra era Sassful, che ho comprato e ricomprato, finito e rifinito, e devo ricomprare, perché secondo me, come durata qui non ce n'è, sono le famose Super Stay Matte Ink della Maybelline, mi sono rimaste le due colorazioni che utilizzo di meno, chiaramente, e sono anche invecchiate nel frattempo, quindi adesso devo dire che non si stendono benissimo, perché sono pastose, però queste qua mi hanno dato tantissime soddisfazioni, soprattutto nelle colorazioni che ho utilizzato di più, che erano anche lì un rosa freddo e un bel fucsia, perché queste non si levano con niente, cioè voi potete mangiare, bere, lo mettete la mattina e tornate a casa alla sera, e avete ancora lì intatta la vostra tinta labbra, che in questo caso rimane più lucida rispetto alle tinte labbra matte, per intenderci, adesso infatti questa è molto pastosa, però vi posso assicurare che qua abbiamo dei prodotti validissimi, sono curiosa di provare quelle nella versione vinillica, quindi vinil qualcosa, ma sinceramente volevo un po' smaltire i prodotti che ho già qui, e poi eventualmente acquistare qualcos'altro, anche perché sono sicura che se inizio ad utilizzare adesso come adesso qualcosa di nuovo, molto probabilmente va a finire che poi, e mi ci trovo anche bene, non utilizzo nient'altro. Quindi qua questo è quanto, c'ho ancora qualcosina che vi faccio vedere brevemente, ma è roba vecchia, avevo comprato tempo fa l'ultra matte liquid lipstick della linea Le Chocolat, che è vecchissima, penso che sia almeno nel 2013-14, questa colorazione è molto scura, erano le prime tinte labbra che venivano fuori, quindi erano un mix tra tinte labbra rossetti, questa ancora ha la profumazione di cioccolato, anche questa mi piace molto perché è molto scura, però poi quando si asciuga tende ad essere un po' più sul marrone. non aveva una cattiva durata, la cosa che non mi piaceva molto di questo è che tendeva a venire via poi nei bordini in maniera disomogenea, quindi l'avevo accantonata, ogni tanto la tiro fuori perché non mi dispiace, questa è nella colorazione 868 Cacao Crush. Bene, questo è quanto, io oggi vi ho fatto vedere tutte le mie tinte labbra barra rossetti, e spero il video vi sia piaciuto, consigliatemi anche voi qualcosina se avete captato i miei gusti e ci sono delle marche che secondo voi vale veramente la pena provare, la parola d'ordine per me è comfort e durata, quindi se c'è qualcosa che ha questi requisiti fatemi sapere, ho altri prodottini labbra che sono dei rossetti, ma magari ve li farò vedere più avanti, anche perché non sono cose che ormai utilizzo veramente più, perché da quando utilizzo le tinte labbra ho abbandonato un po' tutto il resto, io vi saluto, il video è nato lunghissimo, ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!